salve a tutti i ragazzi e benvenuti su questo nuovo gameplay ci troviamo su the long dark dunque sono qui dentro non mi ricordo che posto è ma mi trovo qui dentro io ho fame o 7 dunque intanto facciamo beviamo un po beviamo un pochino qualcosa da mangiare ce l'ho mi sono io senza guanti purtroppo allora dovrei cosa fare anche devo ancora cercare della legna per questa vecchiaccia però dovrei mangiare qualcosina ma ho qualcosa da mangiare cibo per cani mangio che devo fare è solo quello mangio quello no sperando che hai raccolto lattina riciclante scatola di cartone si vabbè frantumiamola frantumiamola ok però ho cercato già qua qualcosa ma non riesco a trovare niente cosa c'è tavola vabbè vabbè dai ma no vediamo cosa ho ok va bene esci dal ma posso rompere io questa tavola quindi dov'era dov'era sta tavola qua perfetto così porto anche questo ne abbiamo recuperato due perché usciamo sono esci dalla banca addirittura in manga sono eccola la rischio desideramento perfetto a posto andiamo a posare questa tra legna qua vediamo cosa succede legna ok allora allora e trasferisci ma come faccio a trasferire la legna qua dentro ah ok trasferisci no e appunto io lo devo trasferire come faccio come faccio no caspita faccio un attimino no caspita faccio un attimo io lo so no caspita io lo so no caspita io lo so no caspita E lo so, dobbiamo trovare del cibo, se il cibo non ci trova no, c'è senso, ma ci sono delle, qui già sarà una cacassa di qualcosa. Eccola qua, riusciamo a trovare qui qualcosa? Sì, no carne non ce ne sono? Ma come, non c'è sta niente? Eeeh, vabbè. Questa cosa c'è niente da poter prendere. Non mi voglio allontanare più di tanto. Eeeh, dove vado, qui dentro, posso entrare qui, apri la porta, vediamo cosa c'è qui. Giornale, casa Milton. Eccola, c'è un... Ma che dopo queste le passano... Trovate qualcosa? Cappellino, prendi. Mangio seccato, prendi. Allora. Dunque, 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 dunque. Cappellino. Cappellino, dove sei Cappellino? Eeeh, vabbè. Indossa. Mi servono però qualche guanto. Cosa c'è qui? Lo sento, ho la tostapane, non mi serve. Che ne faccio? Vediamo se... Non c'è sta niente. Non c'è sta niente, che fortuna. Non c'è sta niente. Lettera... Lettera scritta in mano. Stava piangendo. Possiamo leggere il testo? Non voglio farlo, ma non ho scelto. Non riesco proprio a restare a Milton. Mi dispiace di mandare il cibo quando arriverò in un continente. Sembra che... Eh, papà, ti amo o no? Ti amo N. Prendiata. Beh, se non ci può servire. Non so, cosa? Frigo. C'è qualcosa da mangiare qui? Freezer. Qualcosa? Ah, non c'è sta niente. Che fortuna. Ah, che fortuna. Non c'è sta niente. Niente qui, niente lì. Ah, sì, dai. Almeno questo. Là ci sono ancora cose. Prendiamolo. Qui c'è un bellettuccio. Cos'è? Libro? No? Qui cosa c'è? Guanti, guanti, guanti. Che abbiamo qui? Ben cala. Ma che ne faccio del bar in cala? Annaia della mannaia. T-shirt. Letto. Per come lo prendo. Allora, vediamo. Posso indossare la t-shirt? No? E non mi conviene. Perché mi metto la t-shirt per... No? Non mi serve. Che ne devo fare? Possiamo scendere. Io ho fame. Ho fame. Ma cosa... Ci serve qualcosa? Ma qui legna non ce ne stanno completamente. Non c'è sta niente. Ho cercato già? Sì. Vuoto. Allora, usciamo da qui. Usciamo da qui. Vediamo cosa riusciamo a trovare ancora. Porta chiusa. Non lo so, non ti sentire mai. Sarà mai... Ma c'è qualche carcasse d'animale? O ci sono i lupi? O ci sono i lupi? Siamo pregati, raga. Perfetto. Allora, io poi ci sono... Io ho paura. Ci sono dei lupi e mi fregano anche i lupi. Quindi sicuramente non so cosa fare. Restare qui. Rimanere in zona e cercare qualcosa in zona. E allora... E allora... Riusciamo a trovare qui dentro. Rimanere in zona e cercare... Così intanto... Ok. Intanto siamo a calduccio almeno. Apri. Non resta niente. Non so se qui già ci sono venuto. No. Non lo ricordo. Penso di no. Forse sì. No. Non me la ricordo sta casa. Non c'è niente però. Ho almeno una cosa da mangiare. Una. Una cosa da mangiare. E cavolo. Cosa sono queste? Niente. Io sempre posso usare più di mangiare. Qua lo troviamo. Rischio di cancellamento curato. Dentro il frigo ci sarà qualcosa? Non possiamo cercare niente. Devo buttare via un po' di rinforzo. Roba. E' così qua sì. Ma non so dove lasciare però. Perché è pienissimo. Ma cosa lascio? E cosa lascio ragazzi? Sono cose che... Un cattivo stato. Azioni. Ma posso ripararlo in qualche modo? No. Non c'è la possibilità di riparare queste cose. Allora, vediamo un po'. Perché se non posso ripararli, io li lascio, no? Non hai abiti, no? Tipo azioni. Ripara. Eh, così li posso riparare, in un altro modo no. Facciamo una bella cosa. Facciamo una bella cosa. Io... Lascio... Lascio... Lascio questo. Lascio questo. Questo è uno soltanto. Lascio questo. E poi cosa posso lasciare ancora. Questo è un cattivo stato. Lascia. Altre cose che posso lasciare. Combustibile. Cosa posso lasciare ancora? Esatto. Attrezzi semi. Attrezzi semi utilizzabili per piccoli lavori di fabbricazione e riparazione. No, questi mi li lasciano. Possono sempre servire. Carbone. Niente, per il momento... Questo cos'è? Pezzi di metallo. Ma lasciamo. Tanto per il momento. Lattina vuota. Lattina vuota. Dai, lasciamo un po' di cose. Perché altrimenti, veramente, qua... Ok. Ok. Ma da mangiare? Provo che niente. Zero. Prova da mangiare. Cosa c'è qui? Contentatore di plastica. Cosa trovo qua? Chiave della cassetta di sicurezza. Eeeh... Penso che posso usare questo. E cosa mi serve? Diario missioni. Che cavolo? Vediamo qua. Sta missione. Qua non c'è sta niente. Ce l'avevo cercato. Qua non c'è sta niente. Ok. Lasciamo l'abitazione. Allora, aspetta perché dovrei mangiare... Cosa posso mangiare? Una bella barretta. Almeno, qualcosina. Aspetta dov'entro? In questa parte, se posso entrare? Vai chiusa. Ah, se ci sono i lupi. Queste parte che si aprono, questa è dove sono? Siamo un po' assentrati. E lì c'è una coniglietta. Un po' assentrati. E ti prego a fare? Mannaggia. Un po'. Per un po'. Allora, non c'è qui. Non ho mai stato così freddo nella mia vita. Appunto, scorta, nascosta nella grotta, troppe cose da portare, sciarpa di lana, dai prendiamo, ci mettiamo anche sta sciarpezza, ci mettiamo anche, che ne dite, dove sei, sciarpezza? E dove è la sciarpetta? Dove è la... Eh, sciarpetta, come faccio a mettere una sciarpetta? Allora, mettiamo, dove sono la sciarpetta, perfetto, che sono bellino questa sciarpetta, scaffali di metallo, tavola. Ok, perfetto, penso che ho abbastanza legna per oggi, qua cosa ho, non c'è più niente, qui non c'è più niente, usciamo. Allora, dobbiamo trovare adesso la casa della vecchia, prima che fanno anche il buio. E quindi cosa dov'era adesso? Ah, bella cosa. Dove stiamo? No, hai lasciato, eh? Prendi, che ci possiamo sempre sapire, magari lì, si può stare per fabbricare e riparare dopo un'asciugatura di cinque giorni, da tutti. Ma dov'era casa, ora? Mi sono perso, mi sono perso. Eh, mi faccio trovare la mappa. Dove era la casa di questa... Casa Milton? Scorte, tiprovviste... Era qui? Oh, mamma mia, intanto è già buio qui. Zona postosa? No, zona postosa. Zona postosa sarebbe... Fa... Sono qui, sono no? Dove è tornare indietro, però, vedere io. Ci sono in città. Fai... No, non, 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 non... un oggetto non sono io tu ti faccio prendere ma troppo andate, andate se lo vado, se lo prende ok un po' del paus che non vado a finire io ragazzi ma che forse è rosta ma come vedi questa casa? ma che cosa intrare? allora come si tratta? ma che bello ma che bello e un ribello un ribello ma che mi serve Bene, mi servono cose da mangiare, apri il microonde, lo posso usare? Non lo posso usare, va bene. Sardine, questo si, fagioli con maial marridotto, c'ho maial marridotto. Ratte condensato. Niente. Niente. Adesso i calzini, lascia. Già ce li ho. Adesso la prendo i calzini eccetera eccetera, no? Niente. Andiamo facciando così, beviamo un po'. Perfetto. Qualcosa da mangiare. Cibo. Cibo per cani marridotto. Zuppa di pomodoro intatta. Zuppa? Mangiamo un po' di zuppa? Non ci fa niente. Ah, ma proprio ci fa solo di poco, non ci fa nessun effetto. Barrette di cioccolato. Fagioli di maiali. Come era? Non ricordo più. Ok, dai. Così un po'. Siamo un po' più tranquilli. Lì, lì, lì. Vediamo qua se è notte o no. Eh, non proprio. Non ti ricordo dove era sta casa. Vista vecchia. Era quella? Forse era quella là? Sì. Forse sì. Magari entro dentro un argolino. Per questa? Sì. E questa qua perfetta. Lasciamo un po' di legno. legna. Allora. Per chi mi seleziona? Eh, però no. Devo andare dall'altra parte. Ok, perfetto. Legna. trasferisci trasferiamo 10 12 ok a quanto sono arrivato qua? 12.1 di 24 allora allora in effetti sarò penso di essere anche un po' sta odore, che è sto odore? ah, ma l'ho inserito, sono fatto un aggiornamento sto odore, sta cosa, non mi ricordo più il doppio dito, affamato no, non l'ho non so se posso cuocerle e mangiarle però sono anche un po' stanco e la temperatura scende quindi mi rimango qui in zona ah, dovevo vedere sta chiave dove sono le missioni? qua c'è una legnaia un'anziana signora ah, vabbè, poi vabbè, poi poi faccio Milton dove posso andare qua? ma sembra in zona non voglio ammettarmi più di tanto ok, qualche pietra adesso la posso prendere ho sentito dei lupi, no? ma tipo io? no, no queste cose non le posso spasciare state prendere rimani allora, quanto basta non ci siamo un'anziana con i lupi passiamo di entrare a casa perché fa freddo quindi è meglio rientrare intanto, no? sali non riesci a salire? è caldo però è stanco molto scusate questa cosa di più fronte posso andare qui? ok, sono stanco non sa è meglio rientrare è meglio rientrare subito la signora ci accoglie un attimino gli scusi così mi riposo anche io un attimo, no? se ne dice dove è stata la signora? è morta? ah, ecco, no è qua salve stocchi altri combustibili altro casa non sono fatti tolta forestiera non scoprirai mai se non la riguarda la tua amica che bastarda eh, senta però la verenda signora io vorrei riposarmi soltanto un po' rischio di assideramento rischio di congelamento allora facciamo facciamo una bella cosa sì ok così sono curato ho curato tutto il mio riposo qua accanto a lei mi metto posso mettermi qua mi piazzo il dove stai? attrazzatura da campo questa cosa è una lattina riciclata sacca a pelo mi piazzo qui buono buono accanto a lei così mi riscaldo e mi riposo anche un po' ma posso preparare un attimo allora vediamo azioni a fila raccogli no non posso si si ha ragione va bene ragazzi io mi stendo un po' mi riposo e prossimo gameplay cerchiamo di accontentare questa vecchia sperando di non morire durante la notte perché a quanto pare non sto messo bene però non ho nessuna infermità quindi possibilmente riposandomi riesco a riprendermi un po' posso mangiare soltanto no no abbiamo fuoco qua alla vecchia noi no forse mi mi conviene soltanto mangiare qualcosina così non saprei cosa una barretta di cioccolato perfetto e mi riposo un po' va bene ragazzi per oggi è tutto vi ringrazio per avermi seguito se vi è piaciuto vi prego di lasciare un bel like commentate iscrivetevi condividete grazie e alla prossima ciao belli